Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e in questo video vi voglio parlare candidamente del mercato di carte Pokémon attuale. Voglio parlare delle preoccupazioni magari di coloro che si sentono di aver acquistato un po' troppo nei mesi scorsi e soprattutto voglio anche parlare di tutte quelle persone che forse si sentono che si stanno stufando un po' di questo mondo del collezionismo dopo diciamo 18 mesi di crescita incredibile, soldi che volavano a destra e sinistra e emozioni in generale travolgenti. Chiaramente è innegabile che molte carte si siano abbassate di prezzo negli ultimi mesi e posso anche capire che questo stia creando un po' di malumore in molte delle persone che si sono affacciate al collezionismo Pokémon in questo ultimo anno e mezzo di incredibile hype. Però adesso ragazzi io vi chiedo di armarvi di oggettività e provare a rispondere a questa domanda nei commenti. Voi davvero credete che i prezzi continueranno a scendere all'infinito? O magari pensate che abbiamo forse raggiunto questo fantomatico fondo e adesso è tutto destinato a salire? Fatemelo sapere nei commenti perché ci tengo davvero a capire proprio come sono i vostri sentimenti in questo momento storico. Inquadriamo meglio il problema. Allora il ridimensionamento dei prezzi ha coinvolto, ha colpito sia le carte modern, diciamo una grandissima parte delle carte modern, ma anche le carte vintage, anche se diciamo sicuramente in maniera minore. Ma diciamo che la cosa che sta passando forse completamente in sordina è che dopo una crescita totalmente innaturale una caduta dei prezzi era prevedibile e sicuramente auspicabile. E tra l'altro, se ci fate caso, le carte che hanno perso maggior valore erano quelle tra l'altro che erano acclamate come se fossero i migliori investimenti e gli investimenti appunto più sicuri. Diciamo quelle praticamente che avevano tutti gli occhi puntati addosso. Mi vengono in mente per esempio i Charizard set base gradati, quelli sono davvero calati a picco. Poi c'erano anche i Pikachu giapponesi dei Pokémon Center esclusivi. Quelli sembravano dei nuovi lingotti d'oro quando in realtà, se prendiamo proprio come esempio singolo, il Pikachu Kanazawa che all'uscita riusciva a vendere addirittura a 70 euro e adesso i prezzi si sono davvero dimezzati. È possibile trovarlo ben al di sotto dei 40 euro. E diciamo che come questi ci sono tantissimi altri esempi. Ma dove non batte la luce dei riflettori, diciamo che la diminuzione di prezzo è stata decisamente molto ma molto più contenuta o in alcuni casi addirittura completamente inesistente. E anzi ci sono intere aree del nostro hobby che crescevano di valore mentre tutto tra virgolette crollava. E tra l'altro appunto su questa cosa, se siete interessati potrei farci un video completamente dedicato, ma ovviamente sta a voi farmelo sapere nei commenti. Però tra gli esempi più vividi nella nostra memoria ve ne posso citare alcuni che traggo direttamente da alcuni degli ultimi video caricati su questo canale. Ci sono ad esempio diversi set allenatore fuoriclasse completamente modern dell'era spada e scudo che hanno superato il loro prezzo di listino o che comunque sono molto molto vicini a farlo. E primo di tutti ovviamente c'è quello di Futuri Campioni che in inglese addirittura sta toccando i 90 euro. Ma poi c'è anche il mio preferito dell'intero blocco spada e scudo che è quello di voltaggio sfolgorante e come questi due ce ne sono molti altri che abbiamo già affrontato. Un altro esempio ancora più incredibile sono alcune carte singole di Gran Festa che in italiano, se già stavano crescendo un mesetto fa, adesso la situazione è davvero andata completamente fuori controllo. Mi viene in mente per esempio il Mewtwo EX che ha dei prezzi ora, in questo momento che sto registrando, tutte le carte singole in italiano stanno oltre i 40 euro. C'è il Mew Gold che è esploso di prezzo e addirittura il Gardevoir EX Delta Species che anche lui, non so quando, non so come, ma anche lui è incredibilmente cresciuto di prezzo. E come queste qua ci sono tantissimi altri esempi che potrei farvi. Quindi davvero non tutto sta diminuendo di prezzo e queste sono solo alcune delle cose che posso citarvi. Quindi la realtà dei fatti è che tutto ciò che è stato sovraesposto all'attenzione del grande pubblico è effettivamente sceso di prezzo drasticamente. Ma per il resto direi proprio di no. La verità è che tutto ora è molto più calmo e questo è poco ma sicuro. Non ci sono più carte o prodotti che esplodono di prezzo dal giorno alla notte. Ma non per questo direi che la situazione è assolutamente orribile. E anzi, secondo me, la situazione attuale è completamente in linea con un TCG dal mercato più che florido. Fermo un secondo il video per ricordarvi di lasciarmi un like se vi sta piacendo e soprattutto di iscrivervi se non l'avete ancora già fatto. L'obiettivo è di arrivare ai 10.000 iscritti il più velocemente possibile e per arrivarci però ho bisogno del vostro aiuto. E adesso continuiamo. Dopo tanto tempo per me questa è addirittura la situazione ideale per ricominciare ad acquistare senza venire derubati. e obiettivamente io stesso ne sono la prova perché specialmente su Facebook, lo sapete benissimo, ultimamente sto riuscendo a portarmi a casa diversi lotti vintage tra prime edizioni, carte in ottime condizioni, carte magari anche un po' meno che in ottime condizioni, ma comunque ad una frazione dei prezzi a cui si potevano acquistare anche solo sei mesi fa. Per non parlare comunque di tantissime altre carte modern che ora come ora sono tornate a livelli concepibili per pensare appunto ad un acquisto e prima tra tutte, cosa che tra l'altro sto seriamente valutando l'acquisto sono le Shining di Leggende Ridescenti. Adesso veramente sono acquistabili senza aprire un mutuo, ma come queste anche tantissime altre chicchette modern che sono saltate fuori durante l'ultimo anno, ma che in realtà erano cresciute troppo velocemente di prezzo. Dovete capire che l'interesse è ciclico e anche se ora può sembrarvi tutto nero, la realtà è che la Pokémon Company è sempre stata incredibilmente brava a reinventarsi e restare sulla cresta dell'onda. Quindi, personalmente, se state in questo momento pensando di vendere tutto e mollare Pokémon completamente, io vi chiedo di provare a mettervi nei panni di coloro che dopo un anno incredibile con l'esplosione di Pokémon GO nel 2016 hanno scelto di chiudere. Beh, provate a immaginare se non avessero venduto tutte quelle carte nel 2016, adesso nel 2022, quanto ci avrebbero guadagnato. Quindi, l'unica cosa veramente che ci tengo a far capire è che i picchi di interesse vanno e vengono, ma le carte obiettivamente belle e rare e i prodotti che sono fatti bene restano sempre una certezza. Dunque, quello che posso dire è che se ti senti troppo esposto o hai diverso materiale tra carte singole e prodotto sigillato, qui proprio non ti senti legato, direi che sì, questo potrebbe essere un buon momento per iniziare a vendere qualcosa, ma con tutta la calma del mondo, senza dover svendere niente, perché ti assicuro che le carte Pokémon non stanno andando a zero. Ma in realtà, il mio consiglio di questo video è proprio quello invece di tenerti stretto quella porzione di collezione che per te ha un significato o che, diciamo, molto più praticamente fa parte di un set che sappiamo avere le fondamenta ben salde o, diciamo, alternativamente, se è una carta singola, questa raffigura un Pokémon molto famoso, amato e ricercato. Perché davvero, se vendi tutto, se vendi anche queste cose che per te appunto hanno un vero significato o che sei convinto in questo momento che comunque sono delle buone carte o dei buoni prodotti, non c'è assolutamente la certezza che tra uno, due, tre anni sarà ancora così facile poterli riacquistare. Molto bene, ragazzi. non so voi ma un video così molto discorsivo con il cuore in mano secondo me ci stava proprio anche perché mi sentivo in dovere di rispondere a questo pessimismo che gira nell'aria e addirittura appunto in risposta a tutti coloro che forse stanno cercando di tirare giù ancora di più il mercato forse magari per un guadagno personale. Io, in generale, tutte le mie idee ve le ho dette fatemi sapere quello che ne pensate il mercato Pokémon non sta assolutamente male e solo perché non c'è il guadagno incredibile e le esplosioni di prezzo nel giro di 24 ore non significa assolutamente che tutto stia andando male. Ovviamente ragazzi se siete rimasti con me fino al fine di questo video vi chiedo gentilmente di lasciarmi un mi piace di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Da Mika Wish anche questa volta è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!